Diciamo che abbiamo fatto una bella partita, dal primo minuto fino all'ultimo, ci abbiamo dato tutto e quello che volevamo, i tre punti che sono molto importanti, tutte le ultime partite che si aspettano, dobbiamo fare sempre la stessa del lavoro che è importante, il gruppo sta bene, siamo comunque costretti, condannati a vincere in realtà tutte le partite, sicuramente, quindi i risultati sono soddisfatti, quindi siamo contenti che i risultati sono quelli che facciamo e vogliamo continuare in questa strada. È stato difficile quando abbiamo perso in Coppa, quindi è stato molto difficile per tutta la squadra, non abbiamo proprio immaginato che possiamo perdere in questo modo, ma comunque fa parte del calcio, lo accettiamo e continuiamo a lavorare per il campionato, quello è più importante, adesso si focalizziamo sempre sul campionato che è più importante.